Siete all'ascolto di Radio Sanremo. Io carissimo amico che veramente mi ha lasciato un amaro in bocca quando se n'è andato perché eravamo d'accordo di fare ancora cose, aveva una forza quell'uomo lì, 3-4 giorni l'ho telefonato all'ospedale prima di andarsene, aveva una forza che io che sono a casa non avevo niente, non avevo la forza che lui facciamo, facciamo qui, facciamo là, incredibile. Albert Wan si presentava sempre in scena con il suo volante durante la turbodiesel e tu hai un nome gioiello che gioca anche un po' sulla parola gioiello, cioè c'era anche tanta ironia nel mondo della Italo Disco, sia a livello visivo sia a livello proprio letterale. Esatto. Com'è nato il tuo nome? Si è fatto quel tipo di modulio, abbiamo iniziato con Den Haro, vabbè abbiamo iniziato assieme, Den Haro per dire Den Haro, c'era Giochetto anche, no? Giochetto che era sempre Albert Wan, poi gioiello per dire gioiello, Giovanni Giallo, ma in italiano è gioiello, cioè diamante, rubino, quella roba, si usavano tutti quei nomi lì che in inglese, in italiano suonavano in un'altra maniera. Ascolta, su quel palco, per ricordare Albert Wan, che cosa succederà tra un po'? Eh, non ho detto quello che viene, adesso bisogna vedere perché dipende dall'aria che tira, le sensazioni che prendi e poi vai, dipende sempre dall'aria che tira al momento. Bene, e noi andiamo a curiosare, anzi continuiamo a curiosare perché vi stiamo incontrando un po' tutti, quindi viva la musica, viva gli anni Ottanta direi sempre. Ah, viva di sicuro, anche se purtroppo i ragazzi italiani non vogliono più sentirmi parlare, è giusto così, il mondo va avanti, però vabbè, quel spazio lì è quello e non cambierà più. Anni Ottanta, anni di anni. Grazie, grazie mille davvero. Grazie a tutti, grazie a te, ciao.